La crisi idrica che si sta battendo in queste ore sta avendo ripercussioni molto serie per la penisola sorrentina e l'isola di Capri. In questo momento molti ospiti che avevano già prenotato strutture ricettive sull'isola di Capri sono bloccati al beverello perché c'è in atto un'ordinanza del sindaco per un divieto di sbarco e lo stesso si stanno avendo dei problemi anche in penisola sorrentina sia per turisti già presenti nelle nostre strutture che a differenza di altri alberghi non hanno la disponibilità di serbatoie e cisterne per risolvere un'emergenza di alcune ore ma che potrebbe protrarsi perché malgrado la sistemazione della condotta pare che vi siano ancora problemi di flussi regolari di erogazione idrica. Ecco perché abbiamo chiesto l'intervento del prefetto e chiediamo formalmente e l'abbiamo già fatto in quest'ora con alcuni referenti locali e dei portali internazionali di prenotazione perché applicano un loro filtro che è quello delle emergenze che non dipendono dal gestore ma da una contingenza come era successa per il Covid. Questo potrebbe consentire una rapida ricollocazione di questi ospiti che attendono al beverello per strutture ricettive che avevano prenotato sull'isola come anche per la penisola sorrentina di poter essere ricollocati senza ulteriori oneri per i gestori e per gli ospiti in altre strutture disponibili presenti sul portale. Abbiamo inviato anche una nota al prefetto perché possiamo naturalmente rischiare di avere ulteriori problematiche nei prossimi giorni per una via di stagione che si risulta molto complicato. proprio in queste ore è stato liberato quel tratto della costiera amalfitana tra la penisola sorrentina e appunto Positano che ha determinato non poche problematiche di mobilità e non va bene da un punto, non va ulteriormente bene da un punto di vista di mobilità sulla strada sorrentina anche per le problematiche che ci sono per le targhe alterne, per l'intenso flusso di traffico che non può essere ovviato da un trasporto pubblico come quello della circunbetoviana e del collegamento con i traghetti comunque carente e non in grado di sopperire a questi flussi turistici. Un avvio di stagione complicato che ci auguriamo che il problema possa essere risolto con quanto prima.